Sindaco, nelle prossime ore riceverà la relazione dal comandante della Polizia Municipale Maggitti sulla questione relativa alla multa al questore. Al di là di questa relazione che cosa accadrà, che cosa farete? Noi naturalmente leggeremo la relazione del comandante Maggitti, questa relazione verrà peraltro sottoposta al vaglio del segretario generale e all'essito della stessa valuteremo il da farsi. Ma qualcuno dice che è venuto un po' meno il rapporto fiduciario tra la giunta Alessandrini e il comandante Maggitti e che questa relazione potrebbe non cambiare quella che è una decisione già presa? Guardi, io penso che al di là delle suggestioni giornalistiche, io non posso e non voglio cambiare un comandante della Polizia Municipale in base ad un'intervista ad un programma televisivo. Le Iene sono un programma televisivo di grande successo, però come ho più volte ripetuto, i procedimenti, diciamo, la televisione anzi non si può sostituire ai tribunali, che sono quelli deputati all'accertamento delle responsabilità. Ma aggiungo anche che la televisione non si può sostituire anche alle procedure che sottendono queste operazioni di accertamento anche da parte di un ente. Per cui adesso all'esito della relazione del comandante decideremo il da farsi, ricordando una cosa tuttavia, che i fatti per cui noi parliamo risalgono al 2011 e quindi diciamo che l'istituto della prescrizione si è ampiamente abbattuto sugli stessi. Noi dobbiamo semplicemente valutare la congruenza fra le dichiarazioni rese in sede televisiva e adesso di questo trarremo le nostre conseguenze.